Buonasera a tutti lor signori, mi presento, sono Luca Fero Ferroni e vengo da Fabriano, come hacker nostrano, a raccontarvi di un mondo strano. Oggi è Linux Day, che molti vorrebbero chiamare New Linux Day, la giornata di promozione del new Linux e del software libero, che in 20 piazzi italiani ad oggi altri van festeggiando, ma che prima del Covid in 70 o in 100 andava cantando. Qui a Fabriano lo organizziamo degli cettanni noi del PDP, che molti di voi non sanno manco cosa vuol dire, ma a noi del nome ce ne frega poco perché al Makerspace, in questa biblioteca, vi amo tutto come un grande gioco. Siamo tutti qui per scelta e nessun che ci comanda a bacchetta, tranne noi stessi e il nostro desiderio che speriamo di rasmettere voi in modo semiserio. Perché per noi la risata è fondamentale, da educatrice presentata, come per tutte le bimbe, i bimbi, le ragazze e i ragazzi, che non impara nulla, se non sono felici come pazzi, ma che se dai loro un po' di tempo per l'ascolto, l'attenzione e il volto ti ridaranno sempre molto più di quel che avrai tolto. Lo protagonista, infatti, è il tempo, che oggi sfugge, non si trova, ci lascia senza fiato, lo tempo in memoria che ci ha creato. Ho tempo, dove te ne stai? Cosa tu fai? Io ti ritrovo e ne canto il tuo motivo con la posia che scrissi a casa mia. Ci vengo da qualche minuto? Sì, vai. La natura disse all'uomo, e il tempo? L'uomo rispose, per me sei sempre mia madre, la scintilla del padre la porto con me. La madre rispose, quindi mi prenderai sempre in giro? E l'uomo, fin tanto che ti vedrò felice, sarò io a lasciarmi prendere in giro da te. In questo assurdo teatro del momento ringrazio Fabriano Musica per l'arrangiamento, l'impresa sociale con i bambini e il progetto DOS nazionale per il sostegno, i ragazzi del Makerspace per mettersi in gioco, e lascio la parola al nostro complottista Costin per raccontarvi dei principi del software libero Il Loco. Il Loco